Rieccoci qua in questa nuova puntata di Diva Podcast insieme alla dottoressa Emanuela Papa e vi parleremo del disturbo borderline. Argomento quotatissimo, diciamo che narcisiste borderline sono i più... Sono una delle coppie più perfette. Esatto, e poi comunque i disturbi più richiesti a livello di divulgazione, eccetera, perché tanti ne soffrono di disturbi, è molto diffuso il disturbo borderline. Sono i disturbi più stigmatizzati, di quelli di cui si parla di più, addirittura il disturbo borderline è considerato. Aspetta, c'è la sigla. Scusa. C'è la sigla prima! Sono autistica, ragazzi. La papa era già partita. Sono partita direttamente. Quindi, quindi, sigla e a tra poco. Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Rieccoci qui, la papa non voleva la sigla, però, insomma... Perché ci sei solo tu nella sigla. È vero, hai ragione, hai ragione. È vero, hai ragione di sigla. E niente, ormai tu sei ospite fissa in questa rubrica in cui parliamo dei disturbi. E si parla del disturbo borderline. Allora, prima abbiamo fatto scherzando, però mica tanto. Io ho detto a lei, nel video del disturbo narcisistico, che vi consigliamo, se non l'avete visto, di andarlo a vedere, perché appunto abbiamo parlato del disturbo narcisistico e io sono narcisista, e quindi abbiamo elencato tutti i punti e io ti ho detto ce l'ho, non ce l'ho. E questo, sono sicura che questo video invece sarà il mio ex ce l'ha, il mio ex non ce l'ha. Ecco, quindi, so già che andrà a finire così. Infatti, dicevamo, prima della sigla, che i tratti borderline disturbi, borderline disturbi narcisistici, molto spesso combaciano proprio come match di relazione tossica, effettivamente. Esatto, vero amore tra narcisisti e borderline. Ecco, insieme, insieme al disturbo dipendente, che poi vedremo più avanti. Perché proprio hanno delle caratteristiche che si, a proposito di ingranaggi, di cui abbiamo parlato nel podcast precedente, proprio si rapportano perfettamente a livello di psicopatologie. Freud diceva che i matrimoni sono un incontro di psicopatologie, che si sposano perfettamente. Io però l'uomo con il disturbo dipendente non l'ho mai trovato, purtroppo. Solo i borderline, ma non mi piace però la persona, il borderline è più, ti dà un po' di brio, totalmente sottone, insomma. Di solito tendono più gli uomini a mettersi con donne che hanno delle caratteristiche dipendenti, considera che da un punto di vista di statistiche sono molto di più le donne con un tratto dipendente, mentre i borderline diciamo che si destreggiano abbastanza in entrambi i generi. Ok, bene, allora andiamo a vedere le caratteristiche di questo fantastico disturbo. Io che pubblicizzo il fantastico disturbo, vabbè, incitamento al borderline. No, a me non dispiace, insomma, questo tipo di disturbo nei partner, il borderline ha il suo fascino. Il borderline addirittura viene definito nella seduzione del male. È uno dei personaggi, una delle strutture più affascinanti, proprio perché stare con un disturbo borderline di personalità si ha un po' la sensazione di stare sulle montagne russe. Sì, sì, è vero, confermo. Queste altalenanze che caratterizzano il disturbo borderline rendono anche dipendenti molte persone. Anche i narcisisti, tra l'altro. Anche i narcisisti sviluppano dipendenza nei confronti dei contratti borderline. E anche i narcisisti, quando stanno contratti borderline, possono sviluppare un post-traumatico da relazione tossica. Quindi, ecco, perché sembra che solo i disturbi narcisistici... No, qua dobbiamo anche dire una cosa, che io tra l'altro l'ho detta anche nel mio libro, che sempre sponsorizziamo, sono narcisista che parla del mio disturbo, della mia esperienza, che trovate su Amazon. Ho specificato in un punto che in una relazione tossica ci si sta in due, non è che è solo uno tossico. Esatto. Penso che se fosse solo uno non durerebbe la relazione, no? Perché la persona sana allontanerebbe. Invece di solito si sta in due, quindi entrambi sono toxic. Sia uno che l'altro, sia il carnefice che la vittima. E spesso le dinamiche di carnefice e vittima, come è stato anche nelle mie relazioni, soprattutto la prima, erano molto mischiate. Si alternano. Si alternano. Vedo che hai studiato bene. Ma più che studiato l'ho vissuto. L'hai vissuto su di te, è vero. Sì. Cioè, poi tu hai anche questa tendenza a studiare poi le cose che ti capitano. Sì, esatto. E quindi questa sete di conoscenza. E' vero, assolutamente, i disturbi, ricordiamoci, che vengono sempre valutati, soprattutto i disturbi di personalità, in base anche alle interazioni sociali, quindi alle interazioni, proprio alle strutture, alle relazioni interpersonali. E non esisterebbero i disturbi se non esistesse l'altra persona. Quindi ci sono alcuni disturbi che, tra l'altro, si palesano, si evidenziano, sono ancora più acuti, diventano proprio acuti nel momento in cui si incontra quella persona che tira fuori letteralmente il peggio di te. Esatto. Tira fuori proprio il tuo disturbo. Ci sono stati appunto i miei partner, sono riusciti a tirare fuori proprio tutto il mio disturbo narcisistico, con tratto psicopatico, mentre nella normalità della vita, cioè non penso di essere narcisista con te, per dire, no? Allora, io non ti percepisco nei termini in cui viene definito il narcisismo. Riconosco i tratti, ne abbiamo parlato tanto. Certo, vabbè. Riconosco i tratti, ci sono, però ripeto, tu hai un livello di interazione a livello interpersonale che è dettato anche dalla profonda consapevolezza che hai del tuo disturbo, dal fatto che studi e sei curiosa a conoscere e comprendere anche i disturbi degli altri. Però ti dico, anche prima non è che ero con tutti, cioè non con tutti avevo queste caratteristiche di narcisismo, le avevo soprattutto con i miei partner sentimentali, più che con chiunque. Esatto, nell'amicizia, ad esempio, tu abbiamo parlato più volte, nell'approccio lavorativo di colleghi, di persone con cui collabori, è già diverso, non tendi a sviluppare, diciamo così, tutto il narcisismo. Ci sono i tratti. Pranne con il povero Peter, che è totalmente soggiogato dalla mia crudeltà. Peter, che salutiamo. Nel senso che, da un punto di vista di collaborazione, non... Sì, 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 no, no, certo, anzi, sono molto corretta, molto professionale. Estremamente corretta. Sì, sì, assolutamente, ma non vuol dire che un narcisista non debba essere corretto. No, no, assolutamente, rispetto alla mia... Però si ha questa visione della persona scorretta, disonesta. Sì, sì. Mentre alcune situazioni, alcune condizioni portano letteralmente a vivere il disturbo nella sua totalità, anche nell'aspetto totalmente negativo. Sì, sì, è vero. Mentre in altri contesti, che possono essere quello lavorativo, anche quello amicale, in certi aspetti, poi dipende anche sempre dall'amico che sia davanti, e tendono invece ad essere totalmente controllati. Sì. Quindi emerge solo il fascino e la relazione di interesse reciproco. Esatto. Bene, dai, allora parliamo dei punti del borderline. Allora, allora, borderline, che è stato definito anche uno dei disturbi di personalità più gravi, perché è ad altissimo rischio di suicidio, lui come disturbo di personalità, lui o lei, io parlo al maschile, come disturbo, e può essere anche rischioso nei confronti degli altri, perché è molto, molto, molto imprevedibile, ed è decisamente vittima del proprio disturbo, questa imprevedibilità. È quello che è bello, capito? Ve l'avevo detto che vanno d'accordo, narcisista e borderline. Ti fa le sorprese cattive, proprio di spettacci, cioè, proprio stronzo. Però è bello, capito? È una percezione di tenerti viva. Sì, è vero, è vero. E tendenzialmente il narcisista, poi tu hai anche dei tratti di psicopatia, che vedremo, e ancora in un altro podcast, tende molto alla sensazione di noia. Sì, è vero. Tende molto alla percezione di annoiarsi, quindi ha sempre bisogno di qualcosa che vada a stuzzicare quest'idea, a movimentare la sua vita. Sì, è vero, sì. E chi meglio di una struttura borderline riesce a movimentare la vita degli altri, movimenta purtroppo anche la propria vita. Sì. E, ripeto, rimane vittima letteralmente di se stesso o di se stessa. Allora, parliamo dei criteri diagnostici. Facciamo un elenco, così vediamo come rapportarci al criterio diagnostico e a comprenderlo anche da un punto di vista più professionale, magari con qualche esempio anche più pratico. Ovviamente, come tutti i disturbi di personalità, anche il disturbo borderline deve essere pervasivo, deve nascere dall'adolescenza, nella prima età adulta, strutturarsi ed essere pervasivo sia a livello trasversale, cioè su tutti i fronti che riguardano la persona, sia a livello longitudinale, nel senso che deve durare per un tot anni. Per cui ci deve essere proprio qualcosa che ha compromesso significativamente la funzionalità della persona all'interno della società. I criteri diagnostici, prendiamo anche il borderline ancora riconosciuto nel DSM 5 come disturbo in tutti i sensi. Ne bastano 5, 5 o più, di quelli che vi sto elencando. Allora, sforzi disperati, e già qua iniziamo, per evitare l'abbandono, che sia esso reale o immaginario. Ce l'ho anch'io. Ce l'hai anche tu. Ce l'ho anch'io, sì. Questo è interessante perché leggendo i criteri degli altri disturbi, nel cluster B un po' trasversalmente si assomigliano. Non è un caso che questi tipi di disturbi vengono messi tutti sotto il cappello del cluster B. Sì, no, allora ti dico, io credo, tra l'altro il mio psicologo mi ha detto che è anche possibile, questa cosa dell'abbandono adesso non ce l'ho quasi più, però ce l'avevo nella mia prima relazione quando ero ventenne, e lui mi ha detto che probabilmente avevo un tratto borderline che poi si è un po' ricomposto, cioè si è un po'... Però mi ricordo questi tentativi disperati per manipolare, con mi suicido, mi ammazzo, non mangio, non vivo, per non farmi lasciare questa cosa, e la disperazione c'era, proprio la disperazione fortissima. Dati da proprio una profonda sofferenza, assolutamente. C'era di essere abbandonata con la persona specifica, non chiunque. Esatto. E quindi ce l'avevo anch'io. Poi questa cosa ne è rientrata, nel senso, non ce l'ho più avuta nella relazione successiva col borderline. Con l'altro borderline. Sì. Non stiamo facendo diagnosi agli ex della riva. No, lui si è autodiagnosticato, no, però il tacchino si è autodiagnosticato borderline. Si riconosce in alcune caratteristiche del disturbo. Sì, no, lui ha proprio detto, io sono un borderline totale, cioè proprio lo scrive in maiuscolo, cioè, quindi... Vabbè. E quindi no, con lui, però con quello prima avevo questa cosa dell'abbandono molto forte, e quindi mi riconosco. Infatti, prima di sapere di essere narcisista, avevo il dubbio, forse, sono borderline. Potrei essere borderline. No, però, comunque... E il mio psicologo mi ha detto, posso aver avuto dei tratti che poi sono rientrati, crescendo. Sì, infatti, non... Io non ci precluderei l'idea a priori di essere... di aver avuto anche dei tratti borderline. Molto spesso, durante l'adolescenza, c'è... Proprio gli adolescenti tendenzialmente hanno questa somiglianza con i tratti borderline. E nell'adolescenza, se ci sono dei cluster B, diciamo che emergono in maniera piuttosto pesante. Sì. Quasi tutto il cluster B. Poi si differenziano nella prima età adulta e, diciamo, prevale la patologia del cluster B che ci identifica di più. Ok, ok. Però è vero che sicuramente dei tratti ci possono essere. Ripeto, se sono tutti sotto il cappello del cluster B è perché si somigliano tra di loro e raramente si trova un disturbo puro che non ha alcun tipo di relazione, alcun tipo di criterio neanche degli altri disturbi. Ok, andiamo avanti. Quindi i tratti ci possono essere. Rapporti instabili e intensi che si alternano tra l'idealizzare e lo svalutare l'altra persona. Tacchi. È totale. L'idealizzazione e la svalutazione sono proprio tipici del comportamento del disturbo borderline. Total tacchino, total tacchino. Lui è così, è quello, è quella cosa lì. Sono proprio... Maledetto. Tu pensa che in moltissimi casi anche gli specialisti su questo particolare criterio devono fare diagnosi longitudinale e valutare se, a quanto durano queste idealizzazioni, svalutazioni. Perché, poi vedremo anche in altri criteri, molto spesso è confuso col bipolarismo. Ok. Perché è come se si accendessero di colpo e poi si spegnessero. Ok. Quindi, ad un occhio inesperto, potrebbero anche essere confusi con una struttura bipolare. Ok, ok. Che, tra l'altro, possono anche coesistere. Assolutamente sì, possono coesistere. Sono stati fatti degli studi per cui addirittura si abbozza un continuum tra il disturbo borderline e il disturbo bipolare. Si somigliano molto. A volte vengono trattati con la stessa tipologia di farmaci, che sono gli stabilizzanti del tono dell'umore. Ovviamente il disturbo di personalità non si può curare attraverso i farmaci, perché è un aspetto del comportamento più pervasivo, mentre il disturbo bipolare ha a che fare con aspetti di meccanismi neuronali malfunzionanti e quindi con i farmaci si può contenere parecchio. Tant'è vero che quando si curano i disturbi bipolari che hanno anche la struttura borderline rientrano un po' le problematiche del bipolarismo, ma tutte le caratteristiche della struttura borderline comunque rimangono. Però qua voglio dire una cosa, aggiungere una cosa. Questa cosa qua dell'idealizzazione e svalutazione è ciò che distrugge psicologicamente il narcisista. perché, allora, non so, qualcuno di voi avrà avuto delle relazioni con i borderline o qualcuno di voi sarà borderline, però quando il borderline ti ama, cioè ti ama veramente, io penso che sia, è bellissimo stare con un borderline perché è quello che ti ama più di tutti, cioè proprio ti ama veramente e lo percepisci, non è una bugia, anche il narcisista ama oltre i limiti, ma il borderline ancora di più. è vero che quando mi chiedono se quel tipo di amore è sano, addirittura la persona che riceve tutto questo amore si rende conto che c'è qualcosa di esagerato. Sì, sì, sì. Ma poi è... Nonostante uno possa avere anche un'ottima autostima, non è questione di autostima. Ma poi è un amore viscerale e soprattutto una venerazione totale, questo è quello che piace al narcisista. Poi questa cosa al borderline te la toglie e questo distrugge il narcisista, ma distruggere il narcisista significa che quello si incazza e al borderline gli fa un culo così, perché a quel punto lui lo vuole ammazzare, cioè proprio letteralmente, vuole fargli del male e gli fa del male, perché poi il narcisista non ha scrupoli, non ha pietà e quando ti vuole fare male non ha l'empatia, non ha uno stop, cioè ti distrugge psicologicamente e quindi poi da lì vengono fuori queste dinamiche super tossiche. È proprio un malagessio della rabbia. Allora, il fatto di voler distruggere ha a che fare con una fortissima rabbia che prova una profonda frustrazione e una difficoltà proprio a gestire la rabbia. Sì, sì, stai proprio male. Quindi si perde, allora perdono proprio la percezione di loro. Allora, diciamo che, te la posso spiegare così, la vendetta è l'unico modo per ripristinare il tuo equilibrio. Ripristinare l'equilibrio. La vendetta è necessaria in amore per il narcisista, perché è l'unico modo per ripristinarsi e stare bene, se no è disperato. Quindi la vendetta a me è servita per stare meglio, perché se no io stavo male, allora meglio che stia male lui, cioè morte sua, vita mia, scusa. E quindi far star male l'altro ti fa stare bene dopo il torto subito. Questa è la percezione. E poi diventa quasi come una droga, perché poi quella sensazione di benessere che hai vendicandoti diventa una droga. È comunque dopamina, no? Quindi diventa come una droga. Per cui poi si continua a fare del male e si entra in questa dinamica distruttiva, che è distruttiva per il partner, borderline o non borderline che sia. È distruttiva, comunque logora dentro anche il narcisista. Sì, 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 anche se nel mio caso lui purtroppo non è andato avanti. Io sì, cioè io comunque sono riuscita essendo narcisista a mantenere il mio status. A mantenere struttura. A mantenere, sì, struttura nonostante la sofferenza. Lui invece no. Ecco, su questa cosa, quando tu dici la vendetta è l'unica soluzione, eccetera, eccetera, ci tengo a dire questa cosa perché a volte sono stata criticata perché non prendo posizione e ti dico è sbagliato vendicarsi. Allora ragazzi, il mio obiettivo non è quello di giudicare, cioè il mio scopo non è quello di pormi in un atteggiamento di giudizio, cosa che non dovrebbero fare anche tutti gli altri psicologi perché noi proprio per una questione anche di codice etico non possiamo porci in un atteggiamento giudicante. È come dire, una persona si droga e io dico ma è sbagliato drogarsi? Ok, da un punto di vista di etica, morale, senso comune, è ovvio che è una cosa sbagliata. Do per scontato che si sappia che penso che non vada bene, non va bene per la tua salute, non va bene per la salute di chi si droga, non va bene comunque quando tu dici mi logora dentro la vendetta e far stare male anche a me perché io la faccio per trovare un equilibrio. È ovvio che non è la modalità più socialmente accettabile di ripristinare l'equilibrio. Però non è una questione di giudizio, è una questione di comprendere e ci tengo molto a dirlo perché quando io parlo di questi aspetti non è che dico ecco fai bene a vendicarti, ecco fai bene a far del male, non è quello discorso, è comprendere perché si arriva alla vendetta, perché si arriva ad un senso di frustrazione tale per cui poi succedono delle cose. E io penso che sempre prevenire alcuni comportamenti sia molto meglio che poi averci a che fare. E se la conoscenza, la consapevolezza delle persone porta ad esempio a non mettersi nella condizione di far arrabbiare un narcisista a questi livelli, magari invece di dover correre a ripari quando succede eviterebbe a te la frustrazione e all'altra persona di incorrere in spiacevoli situazioni da cui poi sente di doversi difendere. Ci tengo una cosa importante questa perché molto spesso non la si capisce e sarebbe meglio che ci si approcciasse a questi argomenti con il piglio della conoscenza e proprio della consapevolezza delle dinamiche che accadono, indipendentemente da quello che sono ma prenderle proprio come valore assoluto. Esatto. Andiamo avanti. Ok. Allora, un'immagine di sé o un senso di sé instabili. E qui... C'è letteralmente una frammentazione del sé. Non hanno un'identità stabile e tendono a perdersi nel mondo. Ok. Cioè è come se perdessero dei pezzettini. Alcuni dicono proprio che sentono che la loro percezione di sé è totalmente frammentata e non sentono un'identità stabile, una struttura stabile. È difficile questo da... io non lo comprendo. Tu hai una struttura molto solida e molto rigida come struttura, quella della struttura narcisistica e cerco di farlo capire. È un po' la sensazione che hanno anche in alcuni aspetti la psicosi, ma considerate che la struttura borderline ha delle somiglianze con gli aspetti di psicosi e addirittura si pensa, tra l'altro credo che sia un criterio diagnostico se non lo ricordo male, in momenti di stress può anche switchare verso proprio aspetti più psicotici. Quindi sotto stress, tanti hanno dei momenti di acuzia, il disturbo borderline soffre particolarmente dei momenti di stress. Ci sono proprio anche delle ricadute su tutti gli altri comportamenti. e dicevo, è una sensazione di frammentazione, è come se tu sentissi la tua identità, anche il tuo corpo, è più fisico in questo caso, che si scioglie. Non l'ho capito. Sono sensazioni che non auguro a nessuno. Allora, impulsività in almeno due aree o di più che potrebbero danneggiare loro stessi, tra cui il sesso non sicuro, sesso promiscuo, le abbuffate, o sesso compulsivo, le abbuffate, quindi disturbi alimentari e la guida pericolosa. Quindi hanno degli atteggiamenti fondamentalmente autolesivi, quindi hanno questa tendenza alla compulsione, a fare cose in maniera estremamente impulsiva. E anche l'uso di sostanze l'hai detto? No, non c'è ancora. Ah, ci sarà però. Sì, in realtà sviluppano anche dipendenze, utilizzano le sostanze, poi vedremo, credo che sia ancora uno dei criteri diagnosi, insomma è venuto... Tendono a sviluppare forme di dipendenza, l'autolesionismo è comunque una forma di dipendenza, e tendono a svilupparle perché la sostanza in quel caso diventa un equilibratore, cioè mette in equilibrio le emozioni. Si tende ad attribuire la propria infelicità a qualcosa di esterno e non interno, e quindi anche dall'esterno deve arrivare qualcosa che permetta loro di stare meglio. Tra l'altro i disturbi borderline a volte vengono confusi con persone con ADHD che sviluppano dipendenze, nel caso ad esempio della cocaina si è visto che in alcuni casi con l'ADHD la cocaina ha un effetto paradosso e quindi calma, invece di agitare. Anche lì ci sarebbe un mondo, ricordo a tutti gli specialisti, di ricordarsi sempre di fare diagnosi differenziale, perché lo stesso comportamento su patologie diverse ha delle origini e dei trattamenti totalmente diversi. Ok. Quindi qua abbiamo già parlato delle dipendenze e anche dei comportamenti pericolosi dovuti al loro autolesionismo, quindi andiamo avanti. Ripetuti comportamenti e o gesti o minacce suicidari o autolesionismo. Vedi che poi si rincorrono un pochettino. Ok, sì, sì, sì. Considera che il suicidio non viene solo espresso come, inteso come manipolativo. Cosa che invece facevo io quando... Non è solo manipolativo, cioè non è solo una forma di ricatto, ma in molti casi sviluppano anche delle vere e proprie depressioni maggiori e quindi sono molto a rischio di suicidio. Cosa che invece io non ero quando minacciavo suicidi. Per non farmi... Tu eri consapevole che non l'avresti fatto. Assolutamente erano bugie, sì, 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 totali. Rapidi cambiamenti di umore, di solito della durata solo di poche ore e raramente di un paio di giorni. Questo è l'aspetto distintivo, proprio distingue dal disturbo, dal bipolare. Perché il bipolare ha dei periodi, letteralmente, in cui ha dei picchi verso il basso di depressione maggiore, poi ovviamente ci sono diversi tipi di bipolarismo, e però picchi di maniacalità ipomagnacalità, in cui non solo si sentono bene, si sentono molto bene. Nel momento della maniacalità vera e propria del bipolare di tipo 1 addirittura ci sono deliridi onnipotenza, cioè passano veramente dalla depressione maggiore ai deliridi onnipotenza. Quindi si vede molto bene la differenza. Mentre diciamo che questo aspetto ciclotimico del disturbo borderline, adesso mi sgrideranno, io soffro di questa cosa, sono gli sbalzi di umori della donna nel preciclo, quando ridiamo del fatto che la donna ha gli sbalzi di umori nel preciclo. Ecco. Ma è successo. Io non so. Ma sai che secondo me è una cosa che non credo che esista. No, no, esiste, fidati. Perché io non l'ho mai avuto. Esiste, esiste, fidati. Esiste, ci sono addirittura, addirittura la sindrome premestruale, quella vera e propria, è annoverata tra i disturbi mentali. Ok, ok, no, penso, pensavo fosse un modo di dire, sai come dire. No, 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 ci sono donne che stanno veramente male a livello di proprio di mancata, significativamente nella funzionalità di tutti i giorni. Ma a me anche quando non prendevo la pillola è mai successa questa roba qui. E sei fortunata da questo punto di vista. Eh sì, molto, molto. Assolutamente fortunata. Ci sono donne che invece stanno a letto almeno 3-4 giorni prima del ciclo e quando arriva al ciclo anche. Sì, sì. E questo per dire che ci sono degli sbalzi di umore molto forti, dettati in quel caso dagli ormoni, nel caso invece dei disturbi borderline, sono dettati proprio da tratti questi sbalzi di umore, perché anche piccole cose sono fonte di profonda gioia, come altre piccole cose fonte di profonda disperazione. Ok, ok, sì, sì, sì. Poi persistente, ecco, questo lo dicevo prima, è patognomonico del disturbo borderline. Io non ho mai incontrato un disturbo borderline che non soffrisse di questo criterio e cioè il sentimento di vuoto. Ok. Il vuoto, che da descrivere è estremamente difficile per chi non l'ha mai provato, il senso di vuoto è una forma di percezione del sé totalmente di inutilità di niente. Eh, tra l'altro... Senso di sé che non c'è e che perdura. Io e te ne parlavamo prima e che io ti ho detto, anch'io ce l'ho il senso di vuoto, poi parlandone abbiamo capito che invece il mio è un senso di noia, che è una cosa diversa. È molto diverso. Quindi il senso di noia non è il senso di vuoto. No. Magari se annoiassero nel momento del senso di vuoto i borderline hanno proprio questa sensazione di malessere e di non essere completi. Quindi c'è proprio una forma di mancanza continua e costante, come se a loro mancasse un pezzo. Ok. L'immagine che io ho di questo è di una persona con un buco nel centro. Quindi è proprio come se mancasse a questo livello una sorta di buco. Molto spesso lo descrivono come sensazione allo stomaco, come qualcosa che non c'è, proprio un'assenza di un pezzo di noi. Ok, no, invece io quando ho questa sensazione di noia, che mi può capitare periodicamente, penso, oddio, la mia vita è vuota, però è un'altra cosa. Più la mia vita è noiosa, devo trovare qualcosa per... Esatto, esatto, esatto. Invece quel senso di vuoto molto spesso viene riempito, ad esempio, con le sostanze. Ok. Viene riempito distogliendo la mente dalla percezione del vuoto. Ok. E infatti sviluppano anche molte dipendenze da benzodiazepine, perché poi sviluppano molta ansia e vengono trattate anche con benzodiazepine, percato che poi le benzodiazepine tendano a sviluppare dipendenze. Certo, certo. Quindi diciamo che da un punto di vista farmacologico sarebbe meglio non trattare i disturbi borderline con le benzodiazepine, ma con terapie, con terapie piuttosto cognitivo-comportantiche da questo punto di vista. Rabbia impropriamente intensa e problemi di controllo della rabbia. Ok. Le esplosioni di rabbia sono tipiche della struttura borderline. Esatto. Proprio degli esplosioni, ancora più tipiche che quando parlano dei disturbi narcisistici che si arrabbiano, eccetera eccetera. E' tutta totalmente rabbia. E' un vissuto totale di rabbia. E tra l'altro c'è da dire scatta per cose minime. Cioè il narcisista, almeno io, mi devi proprio fare incazzare. Invece il borderline, cioè gli dici una parola che va... Cioè viene con un casino. Nella struttura borderline. Il raptus. E' molto associata anche a queste oscillazioni del tono dell'umore. Per cui tanto sono imprevedibili queste oscillazioni, tanto è imprevedibile la rabbia esplosiva. E io mi sono presa tanti di quegli insulti. Non solo insulti, diventano anche... Si è molto a rischio in quei momenti, perché una cosa che spesso riportano quando raccontano dei loro momenti di rabbia è lanciare le cose, spaccare gli oggetti. Ok, ok. Distruggono proprio le stanze dove sono. Quindi distruggono le forze. Sì, sì, ho capito. E' una rabbia esplosiva e distruttiva. Sì, 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 ok. E possono anche essere... C'è il rischio di violenza fisica. C'è il rischio di violenza fisica, assolutamente sì. E quindi l'uomo che picchia potrebbe essere il borderline, l'uomo violento. Allora, è un po' limitante dire che gli uomini che picchiano sono borderline. Possono avere una struttura borderline della personalità, però, diciamo, l'approccio fisico, in questo caso, può essere anche, per esempio, di una struttura antisociale. Ma anche persone all'interno, ad esempio, del cluster A, per esempio, i paranoidi, in molti casi possono essere anche violenti. Ok. I psicopatici possono essere violenti. Quindi è sbagliato attribuire violenza solo alla struttura borderline, che tra l'altro può esserlo, ma anche no. Cioè può anche fare violenza solo a se stesso. Sì, 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 è chiaro. Infatti io nella mia diagnosi ho la tendenza alla violenza. Alla violenza anche fisica. Sì, sì. Beh, ogni tanto ho menato. Ecco, prima hai detto una cosa molto importante, che ha a che fare con il discorso dell'età. Hai detto, quando ero più giovane avevo questi tratti un po' più marcati. In realtà, molto spesso, quando non c'è, ad esempio, un approccio terapeutico, o non si ha questa consapevolezza, inevitabilmente con l'avanzare dell'età, alcune caratteristiche si smorzano fisiologicamente. Ok, ok. Quindi, se in adolescenza siamo stati antisociali, problemi di condotta, disturbi borderline, cioè momenti di rabbia, esplosioni di rabbia, fatto cose indicibili, non è detto che poi le rifacciamo anche quando siamo un po' adulti. Sì, beh, chiaramente da adulti subentra anche un po' la maturità. Esatto, letteralmente la maturità, che può essere molto accelerata con le psicoterapie, tende a limitare molto di più queste forme così aperte di strutture. Ho capito, sì, sì, sì. Però, appunto, tornando al borderline, diciamo, può anche esserci la possibilità di omicidi e cose del genere? Ci può essere la possibilità. Io, ovviamente, quando dico c'è la possibilità, certo, c'è sempre la possibilità, non è che le cose possono essere impossibili. L'impossibile non esiste, neanche da un punto di vista proprio statistico, è difficile. Ovviamente in psicologia. Ci possono essere dei momenti in cui anche una persona che non ha nessun tipo di patologia può arrivare al lato estremo della violenza fisica di quel genere. Quindi, non per forza si deve avere una struttura di questo tipo. C'è da dire che chi ha gravi problemi nella gestione della rabbia, è abbastanza logico che possa incorrere in aspetti più, diciamo così, fisici, in maniera statisticamente più probabile. Allora, siamo all'ultimo. Pensieri paranoici, temporanei o gravi sintomi dissociativi innescati dallo stress? Aspetta, mi ricorda qualcuno. Allora, chi potrebbe mai ricordarti intanto? Aspetta, ci penso anche io. Però in questo caso c'è anche. Praticamente era un ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Esatto. Tutti i criteri. Dunque. Anche se questa persona specifica, secondo me, è la mia diagnosi, è la mia diagnosi della diva. Lui si è autodiagnosticato borderline e io l'ho diagnosticato borderline e istrionico. Ok. Quindi poi vedremo anche nell'istrionico dei punti. Questi slanci. Ragazzi, mi raccomando, non fate diagnosi a casa in base a questi criteri diagnostici. Ecco. È saltata la corrente. Vabbè, noi ormai è finito, quasi finito. Sì, sì, l'ultimo è l'ultimo proprio. E dicevo, non fatevi diagnosi a casa, mi raccomando, anche perché serve sempre un tecnico e un professionista che abbia ben chiaro, quando parla di quel criterio, che cosa si intende per quel criterio, proprio in virtù del discorso della diagnosi differenziale. No, però al di là, ovviamente qua si scherzava, però sì, si può comunque riconoscere dei tratti in una determinata persona che noi conosciamo. Assolutamente. Allora, quello sì. Sì. Ecco, la cosa importante è questa. Si possono riconoscere i tratti, si possono riconoscere dei comportamenti, però chi non è del ramo fa più fatica a comprendere se quel comportamento appartiene a quel tipo di patologia o a quell'altro. Perché, ripeto, lo stesso comportamento, che preso come valore assoluto ci può essere in me e in te, anche se abbiamo due diagnosi diverse, ci può essere, ma è il tecnico, il professionista che comprende se quello specifico comportamento è di quello specifico disturbo o di un altro disturbo. O di un altro, esatto. Ecco perché c'è bisogno che non facciate diagnosi voi. Sì, 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 chiaro, chiaro. E quindi abbiamo dato tutti i punti. Abbiamo concluso. Non fate stressare le strutture borderline della personalità. Esatto. Diamo dei consigli anche. L'aspetto dissociativo in questi casi ha proprio a che fare con aspetti di realizzazione e di personalizzazione. E quindi una persona che ha a che fare un partner borderline, cosa deve fare? Sorbirsi sui sbalzi? Allora, chi ha a che fare con un partner borderline dovrebbe innanzitutto pensare di fare un percorso di consapevolezza suo e comprendere i motivi per cui ha questa relazione, che sicuramente non sarà una relazione facile con questa persona. Cercare di discriminare, di distinguere la persona dalla struttura di personalità, dalla patologia, dal disturbo di personalità e sicuramente farsi aiutare da un professionista. Ok. Perché non sono capricci questi comportamenti. È un malessere. Loro compiacere. Ecco, la struttura borderline è in parte egosintonica ma anche in parte egodistonica. Sì, perché stanno male. Perché ad esempio il senso di vuoto è qualcosa che non tollerano neanche loro, che li rende depressi, cioè che sentono molto appesantire la loro vita dal senso di vuoto. Quindi è importante, ecco, non magari assecondarli dicendo andrà tutto bene, facciamo qualcosa, anche perché in questo caso voi stareste fungendo da sostituto del loro pensiero, del loro modo di dover trovare delle soluzioni alternative, più funzionali, ad esempio anche al senso del vuoto. Sì. E la cosa migliore è proprio aiutarli a farsi aiutare. Giusto, quindi... Penso sia il consiglio migliore in questo caso. E niente, noi concludiamo. Qua è saltata la corrente perché ci sono i temporali. E niente, speriamo di riuscire a continuare con i video. Oggi la vedo un po' dura. Però noi comunque siamo qui. La nostra rubrica continuerà nel corso dei mesi. Nei secoli dei secoli. Nei secoli dei secoli. E noi ci vediamo qui nella prossima puntata di Diva Podcast. Seguite ovviamente la dottoressa Papa su tutti i social. Ciao a tutti.